Da tanti anni vivo sotto scorta e Merito News è stata la prima che ha parlato dell'intercettazione dove dicevano che dopo che lo Stato istituzionale mi avrebbe lasciato da solo i mafiosi mi avrebbero ammazzato. Io credo e sostengo fortemente Merito News perché è importante che in Sicilia ci sia la stampa libera, la stampa senza padroni e parla di argomenti importanti. Quindi non voglio ripetermi, io sostengo fortemente Merito News in culo alla mafia. Grazie a tutti.